Dopo sette partite di fila senza sconfitte, la Vis Pesaro frena al cospetto della capolista. Senza strafare l'imbattuta reggiana vince 3-0 a Pesaro. 1-0 nel primo tempo e Tris che arriva nel cuore della ripresa con la prima in classifica che capitalizza al massimo ogni situazione e al contempo rende inoffensiva una Vis mai realmente pericolosa. La partita emotiva a livello iniziale era anche ai punti a favore nostro. Stavamo conquistando campo facendo qualche corner e poi queste sono le grandi squadre. Alla prima occasione hanno fatto gol in una situazione dove la palla è stata messa morbida da dietro. La reggiana va in vantaggio, secondo tempo è difficile su questo campo oggi cercare di fare una gara con un senso tattico e con un senso di soluzioni offensive. Abbiamo cercato di comunque muovere la palla. Devo dirti che all'inizio del secondo tempo anche lì i primi 20 minuti sono stati fatti veramente bene. Abbiamo cercato di reagire, però dopo la punizione di Lanini, la palla inattiva, sono episodi che dimostrano quanto la reggiana sia cinica e quanto comunque abbia meritato la vittoria. Poi il risultato è penalizzante nel numero, però poco importa. Nel calcio di Seredia invece in caduta libera l'alma Juventus Fano, che a Montegiorgio si illude col vantaggio di Casolla, ma poi perde 2-1 rimediando la quinta sconfitta nelle ultime sei gare senza vittoria che costa la panchina a mister Carmelo Gioffre. Ed è quinta sconfitta consecutiva nonché la sesta su sette gare complessive per la Carpegna Prosciutto Basket Pesero. Sabato sera il compito nella tana della Virtus era di fatto ai limiti del proibitivo. La Segafredo ha vinto 88-75 con la VL, che ha fatto quel che poteva per restare incollata alla partita arrivando all'ultimo parziale con sei punti di ritardo. Quarto-quarto in cui la Virtus ha però chiuso la pratica. I problemi sono emersi, soprattutto durante il secondo e quarto periodo. Loro hanno una capacità di spalmare quell'intensità di gioco su 10, 11, 12 giocatori che noi fatichiamo un po' a replicare. Però siamo stati combattivi, siamo stati lì vivi. Il parziale di terzo periodo dimostra venire qua e vincere di nuovo anche il terzo periodo dando la sensazione di essere in gara. È un buon segnale. Dobbiamo mantenere la barra dritta, trovare ancora una settimana di lavoro intensa, di qualità, sperando che l'infortunio di Jones non sia grave. e prepararci a una partita molto difficile sabato prossimo dove dovremo mostrare ulteriori progressi. Nel calcio a 5 l'Ital Service Pesaro smaltita la cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions League si è rebuttata sul campionato battendo 2-1 la fel di Eboli al Palafiera grazie ai gol di Borruto e Salas. Splendida domenica anche per la Mega Box Volley che torna alla vittoria in un match infinito al Pala-Carneroli di Urbino concluso con il successo 3-2 al tie-break al cospetto della Delta Despar Trentino. Sconfitta invece per la Fiorini-Pesaro Rugby che lotta nel fango del Toti Patrignani ma cede 23-29 all'Unione Rugby Capitolina.